Buongiorno, bentrovati martedì 25 febbraio 2020, secondo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa. Mattino 6 che si apre come di consueto con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi che troverete oggi in edicola. Partiamo dal centro, ovviamente anche in Abruzzo a tenere banco il coronavirus. Vedete il virus, l'Abruzzo si mobilita, esami negativi su otto pazienti via ad una task force con regione, province, sindaci e asl. In Italia salgono a sette le vittime, crescono anche i contagi. Il nostro resta bloccato, vedete a centro pagina questa foto con questi giovani che indossano delle mascherine, mascherine praticamente introvabili in tutto il paese e anche nella nostra regione. Vediamo poi di spalle i provvedimenti, reazioni in Abruzzo, Lanciano, Stoppa al Tribunale, all'Aquila, uffici comunali chiusi. Finti operatori sanitari in azione nel mirino gli anziani e poi negozi cinesi nel mirino invece ad Avezzano e Montesilvano. L'allarme dei sindacati, vedete il titolo in basso, a fare in calo nelle aziende abruzzesi. Parliamo anche di cronaca, l'addio alle quattro vittime dell'incidente stradale di sabato scorso, lacrime e musica, chiese stracolme, folle commosse e funerali celebrati a Spoltore, Moscufo e Pescara. Vediamo ancora in basso, sempre a Pescara, controlli dopo i pestaggi, movida sicura, pugno di ferro, multe salate a giovani ubriachi e poi inferno domestico, pescarese a processo, moglie rinchiusa nello scantinato. Parliamo anche di sport del Pescara in questo caso, le grottaglie vietato sbagliare, la partita di domenica prossima contro l'Ascoli allo stadio Adriatico diventa decisiva per il tecnico. Intanto la Curva Sud è stata riservata ai tifosi marchigiani. Oggi giorno di carnevale a Francavilla, gran finale con il carro più bello. Ci sarà anche la premiazione. Andiamo a vedere la prima pagina di Chieti, Lanciano, Vasto. Ovviamente in questo caso i titoli sono più o meno gli stessi delle altre edizioni perché a tenere banco è la questione coronavirus, anche con una sorta di psicosi che si sta espandendo un po' in tutta Italia. Vediamo le altre notizie. Il Tar Palazzo Trinchese va demolito, Chieti respinto il ricorso dei proprietari sia all'ordine di abbattimento entro 30 giorni. E poi Chieti verso il voto. Il vice di Salvini, Crippa, dice Di Stefano sarà in comune per 10 anni, processo a Teramo, pittrice, teatina uccisa. Il figlio dice non sono stato io. Vediamo anche il titolo in basso che ci porta in Val di Sangro, ad Atessa, timori della FIOM su Sevele indotto, Cigele preoccupata anche da investimenti e turni. E poi Vasto, Zess, Marsiglio non ne parla, imprenditori preoccupati. Il calcio di Serie D parla Bolami, il presidente della Vastese, a maggio potrei lasciare. Andiamo a vedere la prima pagina di Teramo del quotidiano Il Centro. Vediamo questa notizia in basso che ci porta a Roseto degli Abruzzi, vigilessa morta, bloccato il funerale. I familiari hanno presentato uno sposto e la procura ha aperto un'inchiesta. Tortoreto, gruppo di imprenditori, a noi lo stadio inagibile. E poi Teramo, inaugurata la biblioteca della scuola, del quartiere della Cona. Vediamo in basso il processo, il figlio non l'ho uccisa io, processo per l'omicidio della pittrice. Il padre non parla ma conferma le precedenti accuse a Simone. Questo è il titolo del centro. Roseto, casello a 14 ok del Ministero al progetto di autostrade. E poi il calcio, il calcio di Serie C. Il Teramo prepara l'assalto al Potenza, gara che si giocherà domani allo stadio Bonolis. Andiamo a vedere la prima pagina di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Una notizia tragica che ci porta a San Gregorio, ucciso dall'albero che stava tagliando. La vittima è l'imprenditore Ruggero Cecala. Aperta, un'inchiesta. E poi l'Aquila, i ricercatori della Ex-Intex, senza lavoro, da due anni. E poi sul Mola il call center 3G si espande, un patto con l'università. Vediamo poi nella Marsica, ad Avezzano, bruciate quattro auto in un garage, notte di panico per otto famiglie. Si ipotizza un attentato. Poi scanno per il lago, c'è l'ipotesi gestione del parco. E poi i campionati giovanili, tutti i protagonisti dell'ultimo turno, comunque di questa fase centrale del torneo, dei vari tornei giovanili. Lasciamo il centro. Andiamo a vedere il messaggero, la prima pagina dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano. Casi sospetti e discriminazioni, coronavirus, tamponi su sei pazienti di Teramo, Pescara e l'Aquila. Già entro oggi i risultati, ma possiamo anticipare che i risultati sono stati resi noti nella notte e sono risultati tutti negativi. Montesilvano spaccata la vetrina ad un sarto cinese, Regione scoppia il caso Mascherine. E poi la storia, fratello e sorella in quarantena volontaria, giusto così. Il cicloturismo ora a pedalare diventa un mestiere, il fenomeno che viene affrontato in questo articolo di Spalla, nella prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Andiamo a centro pagina. Strage dopo il ballo. Vasco e palloncini per l'addio ai quattro amici. Tifolla sterminata, i ricordi commossi dall'altare, musica di Vasco Rossi, stricioni, lacrime e applausi per ricordare questi quattro giovani che sono scomparsi sabato scorso nel drammatico incidente stradale accaduto a Moscufo. Vediamo sicurezza. Rems, degrado sul tavolo del governo. E poi il delitto della pittrice. Padre e figlio in corte d'assise. Simone, non ho ucciso mia madre. Vediamo poi in basso la notizia che abbiamo visto anche dalle pagine del centro. Pota un albero ucciso dai rami. Vediamo poi in alto invece altri richiami, altri titoli di notizie che poi ritroveremo all'interno del giornale. Roseto degli Abruzzi, vigilessa morta, bloccato il funerale. C'è l'inchiesta e poi il processo finto matrimonio per trasferire la donna in Italia. E poi il calcio di Serie B per scara tutti ad allenarsi. La linea dura della società ha annullato il giorno di riposo. Per i biancazzurri che tornati nella nottata di ieri da Crotone, ieri mattina, si sono regolarmente allenati. Vediamo la prima pagina del quotidiano La Città. Coronavirus, i sindaci tranquillizzano, nessuna emergenza in atto. Oggi la decisione sull'eventuale chiusura delle scuole terramane. Vediamo in alto, omicidio della pittrice Simone in aula. Non ho ucciso mia madre. E poi Casello di Roseto, approvato il progetto per la riapertura. È sempre a Roseto, inchiesta sulla morte della vigilessa. Vediamo poi a centropagina pienone di carnevale. Successo per le manifestazioni in tutta la provincia di Teramo. È polemica poi, vedete in basso il Roseto, per la festa a metà. L'opposizione attacca per la piazza vuota a Carnevale. Vediamo poi in basso il calcio di Serie C. Campionato senza soste per il Teramo. Domani la sfida con il Potenza, la gara che si giocherà al Bonolis di Teramo. Lasciamo dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Andiamo a vedere l'edicola nazionale. Ovviamente tutti i titoli di tutti i quotidiani sono incentrati in larga parte al coronavirus, all'emergenza che si sta vivendo in alcune regioni del nostro paese, in particolare in Piemonte e in Veneto. Vedete infatti il titolo del Corriere della Sera, altri quattro morti, ma i focolai sono gli stessi. Crollano le borse dalla Francia alle Maurizius, italiani osservati speciali e respinti di Maio. Siamo affidabili, dice il Ministro degli Esteri. Sbaglia chi vuole isolarci. Conte attacca l'ospedale Lombardo. Potremmo rivedere le deleghe alle regioni Fontana. Parore irricevibili. Vediamo poi questa foto con i turisti nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano, con la mascherina per proteggersi da possibili contagi. Vediamo anche le altre notizie. L'infettivologo, così tanti casi, l'Italia li cerca, all'estero meno. E poi, vedete, più in basso, uscire più forti dipende da noi. E poi lavoro da 80 ore, curo il paziente 1, l'intervista ad un medico di Pavia. E poi vedete ancora il racconto, sempre sul Corriere della Sera. Lo strano lunedì a Milano, una metropoli in pausa, perché in tanti preferiscono restare in casa. Vediamo Repubblica, il virus contagia i mercati. Lunedì nero anche per la borsa di Milano, bruciati in borsa 30 miliardi. Vola lo spread, cade anche Wall Street. Conte striglia le regioni, basta caos o tolgo le deleghe sanitarie. I morti salgono a 7, 229 gli infetti. Traffico ferroviario in tilt nella zona rossa, ritardi di 5 ore per l'alta velocità. Vedete questa foto, siamo a Milano, a piazzale del Duomo, con i soldati che sono in vigilanza, come di consueto, la piazza presidiata dai militari che però sono con le mascherine. Vediamo ancora altri titoli. L'intervista al noto divulgatore scientifico giornalista Piero Angela. Non cambiate la vostra vita. E poi il racconto, ridatemi l'allegria della mia Milano e poi quei bambini rifiutati da Parigi. Scusate, vediamo il fatto quotidiano. Perché l'Italia ha il record di infettati? Noi li cerchiamo. Altri paesi se ne infischiano 7 morti e 222 malati. nel nostro paese. Vediamo Libero. L'infezione si propaga in tutto il paese e le vie del virus sono infinite. Scrive Libero. Centinaia di contagiati, 7 morti e attività paralizzate al nord. Mezza Europa vieta ai suoi cittadini di venire. In Italia. Vediamo il mattino di Napoli. L'Italia ha il rischio isolamento. Virus Francia e Spagna limitano gli arrivi. Molti paesi sconsigliano i viaggi. Conte, non chiudete i confini. Chiede e dice il presidente del Consiglio. I morti salgono a 7. Isolati, Focolai, Lombardia e Veneto. Si ammala capostazione. L'alta velocità va in tilt. Vediamo. Poi altri titoli. Il Sud senza malati che chiude le scuole. Rinvia le nozze dalla Basilicata al Cilento. Quarantena per i turisti del nord. Campania, il piano tampone in tutti gli ospedali dei capoluoghi. Vediamo anche il giornale. Non si ferma. Allarme virus. Ma Conte pensa alle intercettazioni. Dice e scrive in questo titolo il giornale. In un giorno 4 decessi e più di 70 contaminati. Borse infettate. Meno 5%. Recessione più vicina. Vediamo il messaggero nazionale. Virus il caso frontiere. Sette le vittime positivi a quota 229. Sono dati ovviamente che vengono aggiornati praticamente di ora in ora. Epicentri isolati. Limitazioni da Francia e Spagna. L'Italia e l'Unione Europea. Non chiudete i confini. Ed il premier attacca i governatori del nord. E poi vediamo ancora questo titolo. L'ospedale Focolaio nel Mirino di Conte ha favorito il contagio e poi effetto epidemia. Giù borse e turismo. Vediamo il manifesto. Il limite ignoto. Questo è il titolo del manifesto. Vedete questa foto con questa ragazza in un autobus, in un mezzo pubblico. Con la mascherina il coronavirus fa altre vittime. Nell'Odigiano in quarantena quasi tutte anziane con patologie gravi. Sette morti. Oltre 200 i contagi. Vediamo la verità. Gli africani ci mettono in quarantena. Il virus non si ferma. Oltre 230 contagi. Sette morti. Vediamo il sole 24 ore che tratta sempre l'argomento del coronavirus. Ma soprattutto in questo caso sotto l'aspetto economico delle borse. Perché vedete virus tonfo delle borse. Oro al top in arrivo. Nuovo disegno di legge per le imprese. Vediamo il tempo di Roma. Il virus contagia pure il palazzo. Scanner antifebbre. All'ingresso. Vediamo la stampa. Il virus divide l'Italia. Piega le borse. Le ferrovie costrette a cambiare i percorsi. Delle frecce. Ritardi fino a 500 minuti. I mercati bruciano oltre 1000 miliardi. Conte accusa la sanità lombarda. Gestione poco prudente. Pronti a limitare i poteri delle regioni. Fontana ribatte. È offensivo. Vediamo altre notizie. Il reportage a Torino. Mercati semideserti. E poi. Fatemi il test. Temo di infettare i miei pazienti. La richiesta di un medico. Vediamo anche il secolo.it. Ecco il bombarolo. Questo è il titolo. Conte e i suoi ministri hanno scatenato l'inferno sul coronavirus. Italia nel panico. Scrive il secolo. Vediamo. Invece il secolo XIX. Il quotidiano di Genova. Cronache dall'Italia del virus. Città vuote. Treni fermi. Borsa K. In questo titolo un po' condensato. Quello che sta accadendo soprattutto nelle città, in alcune città del nord. Piazza Affari brucia 30 miliardi. Il governo decide il blocco delle tasse nelle zone rosse. Stop anche alle rate dei mutui. Parla anche il Sassoli, il presidente dell'Europarlamento. Non rinunciamo a Schengen. Molti paesi invitano ad evitare i viaggi in Italia. La Francia isola chi torna dal nord. Vediamo avvenire. L'impegno è antivirale. Scrive il quotidiano dei Vescovi. Cordoni sanitari intorno ai due focolai. Salgono a sette morti. Almeno 230 i contagiati. Poi vedete ancora l'altro titolo. Crolla la borsa. Meno 5.4%. Forti timori di recessione per il blocco di produzioni e servizi. Lasciamo dunque avvenire. Lasciamo i quotidiani nazionali. Torniamo al centro. Torniamo alle questioni abruzzesi. Ovviamente si parla anche sui quotidiani regionali della questione coronavirus. Abruzzo mobilitato. Task force in azione. Oggi all'Aquila Summit di Regione, Provincia e Sindaci Aslat. Nei uffici chiusi in alcuni comuni. Ecco le regole da seguire. Allora vediamo. Grazie a questo specchietto. Prima di andare a vedere il primo servizio di questa mattina di Giuseppe Dintino. Quali sono i comportamenti da seguire questo decalogo per il coronavirus? Lavati spesso le mani. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. Copri bocca e naso se esternutisci o tossisci. Poi non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico. Poi pulisci le superfici con disinfettanti a base di clorealcol. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate. I prodotti made in Cina, i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. E poi contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni. E poi l'ultimo punto di questo decalogo. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. E vedete poi in alto l'altro titolo che riguarda in questo caso proprio la situazione in Abruzzo perché non ci sono contagiati nella nostra regione negativi tamponi su due pazienti ricoverati negli ospedali di Pescara e Chieti e su altre sei persone. Allora possiamo andare a vedere il primo servizio di questa mattina con Giuseppe Dentino che fa proprio il punto della situazione in Abruzzo. Nessun caso di coronavirus in Abruzzo. Tutti i test effettuati finora, anche quello sull'uomo di San Buceto che avrebbe cenato col cosiddetto paziente 1, hanno dato esito negativo. La regione però è pronta a far fronte all'emergenza. L'Abruzzo è in continua attenzione, sta monitorando tutta la situazione. C'è un allarmismo generale, è da capire, però devo dire che c'è anche una risposta adeguata nella parte dei nostri presidi ospedalieri in quanto sta funzionando molto il triage che abbiamo procedurato secondo proprio le linee guide del Ministero. Il coronavirus ha posto un'attenzione al caso delle emergenze e quindi tutto ciò che è un percorso di un paziente che può contaminare e quindi dare dei luoghi adeguati, isolati, dedicati proprio per curare questo tipo di patologia. Intanto in Italia si è superata quota 150 contagi e sono morte 4 persone. Le vittime però erano già affette da particolari patologie e l'incidenza di morte si attesta intorno al 2%. Nessun allarme, secondo gli esperti, nemmeno per quanto riguarda i soggetti portatori del virus che però sono asintomatici. Gli asintomatici però non sono dei soggetti particolarmente infittanti, sono dei soggetti pericolosi perché non sviluppano sintomi. Il punto è che se guardate quello che è successo a Codogno un asintomatico deve avere contagiato un certo numero di persone e ci sono stati i casi sintomatici a segnalarlo immediatamente. Che cosa voglio dire? Che se noi manteniamo alto il sistema di sorveglianza noi identificheremo comunque tramite i sintomatici molto precocemente i nuclei di diffusione della malattia. A Pescara è stata identificata un'area che si trova in adiacenza al nuovo pronto soccorso ma esterna all'ospedale che può tenere attivi due posti letto di persone che debbano stazionare là in attesa dell'esecuzione del test e delle relative risultanze. Più ci sono tutta un'altra serie di aree di insicurezza che sono state identificate qualora la simultanea attivazione di più aree fosse necessaria. Per coloro che sono sintomatici e ritengono di essere entrati in contatto con persone malate c'è l'obbligo dell'isolamento fiduciario domiciliare. Per quelli che invece provengono dal nord Italia e che accusano dei sintomi questi devono immediatamente mettersi in contatto con l'ASL per sottoporsi all'assistenza sanitaria. Per tutti gli altri casi l'invito degli esperti è quello di non recarsi autonomamente al pronto soccorso ma di contattare il proprio medico di famiglia per non intasare le corsie emergenziali. Nel frattempo alcune regioni hanno deciso di blindare i confini a tutti coloro che provengono dai luoghi dove è presente il virus ma il governo abruzzese non si allinea su questa politica allarmista. Le frontiere sono già state chiuse nella zona rossa e non possono più uscire quindi questa è una garanzia per i nostri cittadini. Per coloro che sono già usciti e quindi che già risiedono nella nostra regione c'è anche una responsabilità di ogni cittadino i primi sintomi loro sanno che devono telefonare al medico di famiglia in questo triage comunicare la loro situazione, i loro sintomi e poi il medico di famiglia delineare a quello che è il percorso. Intanto per l'emergenza coronavirus l'Università d'Annunzio di Chieti e Pescara ha deciso di interrompere le attività per due giorni mentre in quella di Teramo la vita accademica andrà avanti normalmente. Il Tribunale di Lanciano invece rimarrà chiuso per una settimana. Restiamo in argomento i sindacati Abruzzo e Molise danni economici per quanto concerne le conseguenze di questa emergenza e poi vi facciamo il tampone ma è una truffa anziani nel mirino degli sciacalli a Rocca Spinalveti finti operatori sanitari entrano nelle case per rubare gioielli e denaro la Croce Rossa invita a prestare attenzione ai falsi volontari e poi Sevel vedete gestione dell'emergenza Fiat ok ai permessi retribuiti se impossibilitati a lavorare vediamo ancora Lanciano lo abbiamo ascoltato proprio dal servizio di Giuseppe Dintino rinviate le udienze in Tribunale garantite solo le urgenze poi il calcio la Serie A andrà avanti a porte chiuse altre federazioni sportive decidono invece di fermarsi coronavirus effetti in Abruzzo gite scolastiche annullate si restituiscano i soldi i capi di istituto chiedono al governo un'ordinanza per la restituzione delle somme e poi il parere dei presidi il classico di Pescara il direttore scolastico Donatella D'Amico salta anche il viaggio premio in America e poi Marola dell'Istituto dell'Aquila Maria Chiara Amaro la dirigente dell'Istituto Superiore Amedeo D'Aosta niente panico usate solo prudenza vediamo poi un'altra notizia sempre in argomento coronavirus le lauree all'Università dell'Aquila solo 3-4 familiari per assistere alla discussione delle tesi effetti in Abruzzo ancora restiamo a parlare della questione coronavirus ronde per difendere un negozio cinese avezzano il titolare minacciato dai vicini sei tornato dall'Oriente mettiti in quarantena la polizia locale vigila sull'attività e a Montesilvano danneggiata la vetrina di una sartoria questo episodio accaduto proprio nella cittadina adriatica vediamo la cronaca regionale parliamo di Conf Cooperative il focus su agricoltura, credito e sanità domani assemblea dell'Associazione Abruzzese a Francavilla tra gli invitati il governatore Marsiglio e l'assessore alle attività produttive assessore regionale Mauro Febo e poi l'Aquila commissioni in discussione trasporti, residenze assistite di Monte Reale e poi Vescovi d'Abruzzo e Molise Masci Longo, il nuovo vicario giudiziale e tribunale ecclesiastico nomina per il parroco della cattedrale di Termoli andiamo a vedere le pagine dalle province partiamo da Pescara i controlli della polizia dopo i pestaggi Movida Sicura, pugno di ferro multe salate ai giovani ubriachi e poi in Viera Pietra beve troppo, provoca un incidente e fugge denunciato un quarantenne vediamo l'altra pagina inferno domestico sentenza a maggio la moglie è chiusa nello scantinato pescarese pescarese, scusate, finisce sotto processo e poi scatta torniamo alla vicenda all'argomento coronavirus scatta la psicosi da coronavirus anche nelle nostre città svuotati negozi e supermercati tantissimi pescaresi hanno fatto scorte di cibo incetta di prodotti igienizzanti nei punti vendita e poi Ateneo e biblioteche chiuse fino a venerdì per quanto concerne in questo caso l'università d'annunzio e ammessa la pace senza la stretta di mano indicazioni della curia di Pescara Penne alle parrocchie per evitare contagi e intanto i centralini del 118 ormai da diversi giorni sono tempestati di telefonate andiamo avanti alloggi popolari da abbattere 134 inquilini restano senza casa polemica per il piano del sindaco che punta a demolire gli edifici del ferro di cavallo di via Rigopiano il centro-sinistra dice non ci sono abitazioni a sufficienza l'annuncio di Masci è soltanto propaganda allora andiamo a vedere anche in questo caso il servizio su questa vicenda non basta dire abbattiamo il ferro di cavallo lì bisogna lavorare su più questioni se veramente si ha a cuore quella zona e quindi anche la città di Pescara continua la bagarre sulle periferie di Pescara l'amministrazione tira dritto sull'abbattimento del fantomatico ferro di cavallo del quartiere Rancitelli ma non è stato ancora detto cosa dovrebbe sorgere al suo posto il centro-sinistra chiede più servizi e più polizia i problemi continuano a starci in tutta la città sia di giorno che di notte e quindi non c'è né un'azione di tipo repressivo portata avanti né un'azione più complessa di tipo sociale lavorando con gli adolescenti con le famiglie con gli operatori e gli educatori in quella zona non ci sono scuole ci sono poche scuole molte sono state chiuse mettendo appunto servizi facendo andare persone in quella zona per accedere ai servizi pubblici sicuramente quella zona potrebbe cambiare aspetto l'obiettivo di ogni amministrazione è il medesimo la riqualificazione così da pacificare quartieri indomati e renderli più attrattivi per quanto concerne i consumi il centro-sinistra propone di migliorare la viabilità così da collegare i diversi quartieri cittadini ma lancia anche una provocazione la regione e l'università piuttosto che nell'area dell'ex cofa che vadano a Rancitelli perché non farli in quella zona un problema complesso come la sicurezza si può risolvere con la complessità restiamo a Pescara mare pulito lavori per 60 milioni vedete il titolo in basso vertice in comune sul problema inquinamento sospiri in corso le opere per rendere balneabile tutto il litorale poi mercato ittico oggi la riapertura conclusi infatti i lavori di risanamento avviati dopo l'ispezione del NAS per la struttura coperta di Piazza Musi si spunta un piano strage in strada sabato scorso nel Pescarese addio commosso a padre e figlio fumogeni e vasco per Simone poi vedete ancora in basso Moscufo folla dai paesi per l'addio a Sborgia e poi Pescara il soprannome Maguso i palloncini quartiere San Giuseppe dall'ultimo saluto al cinquantenne d'Agostino Montesilvano il turismo in città la novità con la tassa di soggiorno di un euro dal 15 giugno previste esenzioni e sconti e poi la Befana del Vigile porta 10 quintali di cibo a 80 famiglie consegnati questi quintali di cibo alla parrocchia di Sant'Antonio allora possiamo fermarci per qualche istante andare a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore tra pochissimo di nuovo in studio per la seconda parte di Mattino 6 eccoci di nuovo in studio per la seconda parte di Mattino 6 siamo alla pagina del centro riguardante Francavilla al mare il cartellone estivo dal concertone alla notte dei saldi ecco le prime date non solo per gli eventi estivi ma anche per quelli delle prossime settimane ancora top secret i nomi degli artisti che si esibiranno restiamo a Francavilla perché oggi ci sarà l'ultima sfilata alle 15 per il carnevale di Francavilla verrà premiato il carro allegorico più bello siamo alla pagina dell'area vestina dell'alta Val Pescara partiamo da Bussi sul Tirino droga nell'armadio di casa giovane di Bussi arrestato e poi ragazzina investita a Popoli il guidatore dell'auto davanti al jeep poi vigi del fuoco a Castiglione in azione ieri per un incendio penne il carnevale riempie il centro storico pienone di maschere nella sfilata di domenica e oggi si replica con la premiazione finale in piazza vediamo poi in basso parliamo anche della bocciofila di Dora De Passeri campione provinciale con Antonio Valentini vedete nella foto la squadra siamo alla pagina di Chieti ovviamente in questo caso il primo piano riguarda le ormai prossime e imminenti amministrative corsa al comune si tratta sui candidati Lega Forza Italia Fratelli d'Italia e Udici tentano di ricostruire l'unità PD e liste civiche provano ad allargare la coalizione e aspettano il movimento 5 stelle vedete poi centrodestra ora il vice di Salvini frena Forza Italia avanti con Di Stefano la stretta di mano tra Andrea Crippa e Fabrizio Di Stefano e poi il centrosinistra la sfida di Rispoli la mia alleanza pronta in tre giorni e poi vedete il terzo polo con De Cesare Febbo Marzoli gli altri schieramenti per quanto concerne le amministrative siamo alla pagina della provincia di Chieti parliamo della Sevel dell'indotto da salvaguardare le preoccupazioni della FIOM la CGL lancia tre allarmi investimenti sul nuovo Ducato concorrenza dalla Polonia nuovi turni allora anche in questo caso possiamo andare a vedere il servizio che fa proprio il punto della situazione con il parere degli esperti degli esponenti del sindacato vediamo un tavolo sul futuro della Seveli in Abruzzo e quanto chiede la FIOM CGL alla regione i timori dice il segretario regionale Alfredo Fegatelli in conferenza stampa a Lanciano riguardano PSA che in Polonia sta puntando sulla produzione dei veicoli commerciali leggeri ovviamente abbiamo già avuto un incontro qualche tempo fa dove abbiamo manifestato la nostra perplessità sulla debolezza del sistema Sevel la seconda questione è data dal fatto che ovviamente non si sta parlando di investimenti e quindi non sappiamo quale sarà il futuro del nuovo furgone dove questo nuovo furgone verrà realizzato l'altra cosa che abbiamo notato è la debolezza del sistema di fornitura di Sevel che è localizzato nel nostro territorio dove ovviamente c'è una monocommittenza che se ovviamente dovesse entrare in crisi questo sistema entra in crisi tutto quanto il territorio e per questo noi chiediamo alle istituzioni di prendere immediatamente in considerazione questa situazione e intervenire Inevitabilmente il discorso si sposta a livello internazionale in particolare occhi puntati sulla Polonia perché? La Polonia è un sistema che si sta realizzando e quindi ancora non è partito ma che sta già prevedendo diciamo delle aziende fornitrici autonome e quindi di consenso si potrebbe aprire anche una discussione sulla concorrenza delle attuali aziende presenti nel nostro territorio con le aziende polacche che produrranno più o meno le stesse identiche cose Quali sono le parole le dichiarazioni dei vertici aziendali che vi fanno preoccupare? Rispetto alla vicenda della Polonia c'è un'intervista che è stata fatta qualche tempo fa dove praticamente si diceva che veniva spostato in Europa dall'Inghilterra la produzione dell'Opel Astra ha una domanda specifica se veniva fatta in Polonia la risposta è stata no perché la Polonia sarà il centro per la realizzazione dei veicoli commerciali oggi sappiamo che l'Opel Astra verrà prodotta in Germania E quindi da questo che cosa deducete? Che diciamo PSA sta lavorando moltissimo con il governo polacco per potenziare quel sito di Gliwitz dove nel 2021 si dovrebbe raggiungere la capacità produttiva di almeno 100 mila furgoni e che hanno un accordo decennale per quanto riguarda lo sviluppo di quel territorio Andiamo avanti ci spostiamo a Basto in questo caso per vedere il titolo che riguarda eccolo qui la ZES ZES ancora ferma Assovasto esprime la sua preoccupazione proseguiamo pagina di Teramo l'omicidio della pittrice il processo Simone si assolve il padre non parla Santoleri figlio parla per signore ribadisce non ho ucciso mia madre Giuseppe conferma l'interrogatorio in cui lo ha accusato vedete nella foto alcune immagini andiamo avanti vediamo l'altra pagina che riguarda in questo caso la provincia di Teramo siamo a Silvi Italia Nostra Comuni Uniti per la variante alla statale 16 dopo l'invasione dei tir l'associazione ambientalista e il comitato del paesaggio chiedono un progetto coordinato Pineto fratelli d'Italia aumentare la tassa di soggiorno è una scelta incosciente dicono i consiglieri del partito di centrodestra Atri dateci marcia a piedi rialzati e piazzole di sosta il condominio la panoramica chiede più sicurezza per l'incrocio di viale risorgimento vediamo poi in basso altre due notizie ancora Atri tanta gente in piazza per la festa di carnevale poi Silvi incontro all'alberghiero per trovare lavoro in Europa pagina dell'Aquila sul centro la tragedia di San Gregorio è stata aperta un'inchiesta tra volte ucciso dei rami di un salice Ruggero Cecala imprenditore 62enne stava potando l'albero insieme ad amici e familiari la dinamica di questa tragedia è ancora da chiarire capoluongo non starò dietro la scrivania il nuovo questore dell'Aquila si presenta in questa città un laboratorio di innovazione delle politiche di sicurezza vediamo ancora l'Aquila caserma aperta per la sfilata dei volontari alla Pasquali l'iniziativa dell'esercito del nono reggimento alpini per gli aspiranti al reclutamento vediamo ancora siamo alla pagina della provincia dell'Aquila nella Marsica d'Avezzano denuncia la violenza a un compleanno una 17enne accusa l'ex fidanzato i presunti abusi in un campo la difesa punta sulle mancate conferme del DNA Carsoli botte al nonno per ottenere soldi un uomo di Carsoli finisce sotto processo e poi ad Avezzano bruciate quattro automobili in un garage notte di panico per otto famiglie esplosioni fuoco e denso fumo svegliano gli inquilini sono in corso le indagini e poi ancora Avezzano Papa Francesco riapre la chiesa dei frati lo storico luogo di culto a Pucetta sarà dedicato alla Vergine del Silenzio la Dioce si svela il progetto siamo arrivati alle pagine dello sport allora dobbiamo andare a vedere prima di parlare di sport nell'ultimissima parte di questo appuntamento col mattino segno vedere le pagine interne dell'inserto abruzzo del messaggero ripartiamo da pagina 35 vedete il virus il pasticcio delle mascherine l'emergenza del coronavirus l'iris le indossino tutti gli utenti che entrano in regione poi il dietrofront provvedimento escluso da nuove direttive e poi effetto psicosi presi d'assalto farmacie e supermercati nella nostra regione poi ancora tra export e mercato interno l'economia abruzzese a rischio andiamo a vedere le cronache dalle province partiamo da Pescara psicosi coronavirus corsa mascherine e liquidi disinfettanti e poi in osservazione in ospedale un uomo e una giovane atleta reduce da lodi cambiando argomento in basso usura bancaria archiviazione bocciata il GIP ordina alla procura nuove indagini e poi fiori bianchi e canzoni di vasco un fiume di lacrime per Simone a spoltore una folla immensa per i funerali del giovane Cerretani 24 anni e del papà Fabrizio una comunità colpita al cuore dice il parroco e poi vedete ancora altri funerali delle persone morte nell'incidente di sabato paloncini per Magulo strazio di moglie e figlie di D'Agostino e poi a Moscufo per sempre tua ti amo per Adriano sborgia la dedica della fidanzata andiamo avanti da moglie a schiava guzzini alla sbarra dal sogno all'incubo per il matrimonio di facciata la straniera pagò 7 mila euro con il miraggio della cittadinanza italiana il PM chiede tre anni di carcere per il falso marito e poi manette l'investitore della ragazzina di Popoli andiamo in basso alcol e cocaina le follie del weekend denunce e multe della polizia locale di Epescale poi ferro di cavallo mancano 70 alloggi alternative abbiamo visto prima il servizio con le proposte del centro sinistra Pescara siamo alla pagina dell'Aquila del messaggero coronavirus il sindaco chiude al pubblico gli uffici comunali preciso ha detto il primo cittadino che si tratta di un'operazione solo ed esclusivamente a scopo precauzionale la città una situazione particolare figlia del terremoto per la presenza dei cantieri e poi il caso finisce sul tavolo del governo e poi ancora i tesori dell'Aquila Amiternum in 3D e tour virtuali grazie al progetto dell'università vediamo poi in basso in cubo cocaina altri due arresti e tanti segnalati nella lotta allo spaccio nel capoluogo di regione e poi la tragedia di San Gregorio resta ucciso mentre pota dei pioppi l'imprenditore Ruggero Cecala ha 61 anni colpito da grossi rami poi la presentazione del nuovo questore dell'Aquila capoluongo starò in mezzo alla gente ha detto il neo questore vediamo le altre notizie cesa proba successo dei carni di carnevale poi la vertenza ricercatori ex Intex nuovo appello e poi il trassognato ponte di Belvedere firmato dall'Archistar Walking Marg andiamo a vedere la prossima pagina in questo caso siamo ad Avezzano e Sulmona partiamo dalla Marsica ad Avezzano esami ok riapre il negozio cinese di via Don Minzoni e poi Sulmona nella giostra d'Europa anche Croazia Oristano pescina acqua giovenco assemblea con tutti i sindaci del comprensorio e poi ancora violenza su una ragazza giovane a processo ci spostiamo nella parte bassa della pagina Sulmona impianti da tennis dell'incoronata via libera della regione alla gestione poi Avezzano ancora auto a fuoco indaga la polizia e poi la politica avezzanese De Angelis a Passerotti lasci il mercato dov'è siamo la pagina di Chieti del messaggero la politica in questo caso la lega blinda di Stefano Febbo discorsi muscolari e poi all'università d'annunzio lezioni frontali sospese fino a venerdì e poi proclamati vincitori del premio Prisco tra questi il tecnico del Bologna Mijailovic ed il centrocampista dell'Inter Barella vediamo ancora la cronaca in questo caso topi d'appartamento allo scalo tutto a soquadro per i preziosi andiamo avanti FIOM a Sevel fuori il piano industriale abbiamo visto prima il servizio e poi ancora Cupello discarica dissequestrata lavori non ancora autorizzati vasto emergenza cinghiali gabbie non convincono ci spostiamo più in basso Lanciano coronavirus in tribunale scatta lo stop alle udienze nel tribunale di Lanciano vedete il titolo e poi Oscar del gusto due medaglie d'argento a Luca Finocchio apicoltori doc Ortona opere pubbliche ok al programma triennale varato dall'amministrazione comunale e poi a Vasto sale operatorie il piano stenta a decollare all'ospedale San Pio di Vasto siamo alla pagina di Teramo del messaggero fratello e sorella scusate in quarantena per ora restiamo chiusi in casa coronavirus Enrico 28 anni insegna a Cremona sospese le elezioni è tornato il raffreddore il medico mi ha detto di stare da solo e aspettare prima di uscire e poi incontri con i presidi sospese le gite e le visite per quanto riguarda sempre l'emergenza coronavirus e poi il ristoratore cinese su facebook io accumunato al virus e poi rientra da Lodi con l'influenza donna sotto sorveglianza ha subito chiamato il medico di base le è stato fatto il tampone al 118 centinaia di telefonate un po' a tutte le sale operative del 118 della nostra regione siamo alla pagina dell'area costiera del Teramano partiamo dallo setto degli Abruzzi riviato il funerale della vigilessa morta scatta l'inchiesta e poi Giulianova annuncia il suicidio lo salvano i carabinieri Val Vibrata a TR continua il presidio lo sciopero va avanti e poi ancora Val Vibrata Val Bar ma era ai domiciliari finisce in manette e poi ieri la deposizione di Santoleri figlio per l'omicidio della pittrice Rapposelli il giovane dice no no ucciso mia madre interrogatorio durato sei ore il padre Luigi ha deciso di non rispondere ha detto aveva dichiarato in precedenza ho detto tutto Giulianova oggi il carnevale al paese gemellaggio con il carnevale brasiliano siamo arrivati in questo caso alle pagine dello sport del vedete del quotidiano in messaggero dobbiamo però andare a vedere le pagine interne della città ripartiamo riprendiamo con pagina 3 una due giorni intensa all'emiciclo tra i punti da discutere anche l'elenco degli idoni all'incarico di direttore generale e sanitario alla ASL di Teramo dunque importanti nomine all'orizzonte e poi la cimice asiatica spaventa col diretti abruzzo raccolti a rischio coinvolti i prefetti per chiedere l'istituzione di tavoli per il monitoraggio del contrasto alla diffusione dell'insetto coronavirus nessuna emergenza sanitaria in Abruzzo le rassicurazioni emerse al termine del comitato ristretto dei sindaci nella sede dell'ASL di Teramo abbiamo sentito prima anche nel servizio di questa mattina mandato in onda nella prima parte le parole dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì l'Abruzzo però ha paura mascherine finite presi d'assalto i supermercati vediamo poi in basso di ritorno dalla Lombardia e sotto controllo al Mazzini un terramano riferito di aver avuto contatti con residenti della zona rossa coronavirus scuole sulla chiusura si decide oggi a Teramo confermata la sospensione di tutti i viaggi di istruzione delle visite guidate per tutti gli istituti teramani e poi ok sicurezza ma la didattica va davanti se vi decide l'appello dell'organizzazione nata per difendere i bambini servono prevenzione e tutela dell'apprendimento proseguiamo la precauzione è un principio necessario la lettera del professore dell'università di Teramo di Guardo pubblicata sulla rivista Science per quanto riguarda sempre ovviamente il discorso relativo al coronavirus restando sempre in argomento lezioni sospese fino a fine mese all'annunzio regolare invece le lezioni all'università di Teramo andiamo avanti la cronaca giudiziaria omicidio della pittrice Simone non ho ucciso mia madre il figlio si difende in aula sette ore di botta e risposta con il PM il padre Giuseppe sceglie il silenzio ho già detto tutto emergenza idrica allertati i consorsi cambiamo argomento l'assessore regionale imprudente ha stilato una road map e definito le priorità connesse all'emergenza condincente e poi taglio del nastro per la nuova biblioteca scolastica di Teramo con gli studenti delle medie hanno vinto il concorso nazionale le biblioteche di Antonio aggiudicandosi 400 testi stati generali per cambiare la mobilità in città siamo sempre a Teramo una delle priorità il put tra l'idea e lo studio un attraversamento rialzato e illuminato in piazza Garibaldi fondazione Tercas rinnovo per il collegio dei revisori e per una parte del CDA andiamo ancora avanti Verna prende il bus per toccare con mano siamo sempre a Teramo l'assessore comunale ha voluto capire di persona quali sono le linee meno utilizzate e quali sono quelle da potenziare andiamo più in basso Fiorenza Di Falco il nuovo presidente della Croce Rossa di Teramo presentato anche il nuovo consiglio direttivo Carnevale carri maschere coriandoli e sorrisi grande successo domenica per le diverse iniziative in maschera e oggi si replica in alcune piazze fra cui quelle di Atri Teramo Montorio e Giulianova vedete le foto delle varie manifestazioni Valle Castellana i vertici delle Marche si schierano per il sì la decisione in vista del referendum dell'8 marzo sul passaggio di Valle Castellana alla provincia di Ascoli Piceno le montaglie e teramane accolgono il progetto internazionale Erasmus più ora vede 30 giovani europei provenienti da Italia Belgio Bulgaria Albania Bosnia Erzegomina e Germania nel parco Seconda settimana di sciopero all'ATR siamo alla pagina della Val Vibrata Colonnella i sindaci e i sindacati tornano a criticare la proprietà lavoratori in ostaggio e poi Alba Adriatica uomo ai domiciliari trovato nascosto in un casolare di Martinsicuro e poi sempre a Martinsicuro incontro sui fondi a disposizione per combattere l'erosione costiera l'incontro che ci sarà con il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Umberto D'Annuntis restiamo in Val Vibrata ad Ancarano protestano anche i lavoratori dell'elettropicena sud mobilitazione dei dipendenti per il blocco della flessibilità e degli straordinari lasciamo la pagina della Val Vibrata siamo a quella di Giulianova emergenza loculi al cimitero di Giulianova necessaria l'estumulazione di alcune salme e poi ancora Giulianova non solo d'aspo nel consiglio comunale si discute anche della RSA di Villa Volpe e poi in basso vedete un'altra notizia torna l'evento musica e arte alla sala Trevisan sempre a Giulianova siamo la pagina dell'area costiera della provincia di Teramo partiamo da Roseto polemica sul carnevale a metà di Roseto per Recchiuti e Marconi rappresenta solamente la punta dell'iceberg di una situazione di immobilismo generale Caosina 14 il ministero approva il progetto Aspi per riaprire il casello autostradale di Roseto e poi ancora Roseto inchiesta sulla morte della vigilessa rosetana esposto dei parenti di Iziana Gimignani sospesi funerali previsti per ieri pomeriggio al Sacro Cuore Pineto il circolo di Fratelli d'Italia critica l'aumento della tassa di soggiorno e poi in basso ancora Pineto Luciano Monticelli entra nell'assemblea nazionale di Italia viva il partito fondato dall'ex presidente del consiglio Matteo Renzi pagina della cultura e Dio che si china sull'uomo dentro la Bibbia con Carmine Di Sante che presenta a Teramo il suo libro su Armido Rizzi vedete quest'altro titolo d'annunzio dell'architettura nuovo libro di Raffaele Gian Antonio stato presentato nei giorni scorsi e noi siamo alla pagina finale di questo appuntamento con Mattino 6 che riguarda lo sport partiamo dai titoli dei quotidiani sportivi nazionali Gazzetta dello Sport Juve Inter porte chiuse e poi Agnelli un pizzico di pep parla il presidente con la tentazione bianconera e poi Ibra Milan e casa pronto il rinnovo per un altro anno per il giocatore attualmente in forza alla formazione rossonera vediamo il Corriere dello Sport si riparte Juve Inter a porte chiuse per l'emergenza coronavirus e poi i marziani a Napoli Messi e il Barcellona in scena al San Paolo per la gara che riguarda la Champions League vediamo tutto sport si gioca a porte chiuse Inter Ludo Gredez e sei partite di Serie A e questo sempre per l'emergenza coronavirus e poi benvenuto Messi arriva il Barcellona a Napoli per la gara di Champions League una gara assolutamente di richiamo per gli appassionati di calcio siamo allo sport dai quotidiani regionali il centro Gattuso voglio la gara della vita parla il tecnico del Napoli alla vigia del match con gli spagnoli ma noi parliamo di sport regionale in particolare perché dopo la disfatta di Crotone in casa Pescara ci sono le polemiche ma soprattutto c'è preoccupazione dopo le tre sconfitte di fila la società non ci sta Pescara svegliati ieri niente riposo squadra subito al lavoro domenica sera con l'Ascoli potrebbe essere la gara decisiva anche per il tecnico le grottaglie non ci sarà Bogino squalificato e intanto in vista del match con i bianconeri la curva sud è stata riservata ai tifosi Ascolani mille biglietti inviati nelle marche e ieri il posticipo con la sconfitta casalinga del Perugia per 1-0 con l'Empoli Empoli vittorioso con un gol di Frattesi al 44esimo del secondo tempo continua a perdere il Perugia di Cosmi che tra l'altro ieri era squalificato al suo posto in panchina c'era Bazzani vediamo la Serie C domani al Bonolis torna il campionato per il Teramo che affronta il Potenza c'è Arrigoni Tentardini in dubbio chance per Birlingheia vediamo poi in basso il premio Prisco a Vigorito Mianovic e Barella abbiamo visto prima anche altri articoli sul premio Prisco parliamo di Serie D Bolami avverte Vastese è pronto a farmi da parte se c'è qualcuno in grado di fare meglio posso fare un passo indietro un'altra notizia che riguarda invece Chieti Giulianova che si giocherà allo stadio Angelini vediamo la prossima pagina che riguarda poi il calcio a 5 calcio a 5 femminile il trionfo di Taranto Montesilvano una prova di forza la Coppa della divisione si aggiunge ad una bacheca ricca di trofei per la formazione del Montesilvano andiamo a vedere lo sport sul messaggero un Pescara flop riposo annullato ieri Biancazzurri ad allenarsi dopo il ritorno in nottata da Crotone Galano cambiare registro così andiamo a fondo le parole dell'attaccante Biancazzurro che abbiamo riascoltato anche ieri sera nel corso della trasmissione replay e poi fatale il maledetto mercato di gennaio questa l'opinione sul Pescara Teramo cerca gol contro il Potenza domani la gara al Bonolis Serie D vastese il tecnico Silva ragazzi affamati di gol parla il trainer Biancorosso dopo la vittoria sull'Avezzano è proprio l'Avezzano con Liguori che ribadisce l'obiettivo salvezza per la sua squadra in affanno il notaresco raggiunto in testa la classifica dal Matelica Vagnoni dice siamo troppo molli vediamo ancora l'altra pagina di Sporto il messaggero Passeri Io Azzurra continuo a studiare parla la sedicenne pescarese convocata dal commissario tecnico Grilli parliamo in questo caso di calcio femminile poi Sieco stoppa la trasferta pallovale si recupera il 22 poi il basket con il Roseto Baiesch sorride Roseto siamo ancora in lotta torniamo alla serie D ultimi due articoli che riguardano il Giulianova e poi il Chieti Giulianova tre scenari per ottenere la salvezza e poi Chieti l'unica soddisfazione il ritorno al gol degli attaccanti ma non è bastato con la sconfitta della formazione neroverde a Recanati nell'ultimo turno chiudiamo con il quotidiano la città Teramo senza soste domani c'è il Potenza la gara di sabato ha messo in mostra buone cose e altre meno ora bisogna cambiare passo con le big e poi vedete in basso l'atletica Giada Bilanzola conquista la medaglia di bronzo nel salto triplo la saltatrice teramana firma il primato personale indoor e siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 a proposito di Teramo vi ricordo questa sera invece l'appuntamento con ProTeramo con Jacopo Forcella e con i suoi ospiti per parlare dei biancolossi alla vigilia della gara di domani con il Potenza Mattino 6 torna invece domani puntuale alle 8 per quanto concerne gli appuntamenti informativi della nostra rete come sempre vi ricordo alle 14 la prima edizione del nostro telegiornale davvero tutto grazie per averci seguito grazie a Claudio Di Giacomo in regia e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.